Sono Maria Concetta Giunta, sono la responsabile del servizio statistica ambientale e produzione dell'annuario dei dati ambientali di ISPRA. Sono qui per invitarvi alla presentazione dell'annuario dei dati ambientali che si terrà il 6 dicembre prossimo 21 all'auditorium del Ministero alle ore 14. L'annuario dei dati ambientali viene prodotto con il concorso del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e di altri enti di ricerca e istituzioni pubbliche. Con l'annuario dei dati ambientali l'ISPRA ottempera a uno dei suoi compiti fondamentali che è la diffusione dell'informazione ambientale. L'annuario dei dati ambientali costa di 6 prodotti, la banca dati indicatori contenente circa 300 indicatori, la versione integrale che è una raccolta di schede indicatori raccolpate per tematismi ambientali. Ricapitolando l'ambiente che è una brochure che analizza le principali problematiche ambientali con dei confronti con l'Europa, il multimediale e il giornalino. Novità di quest'anno è il documento dati sull'ambiente. Da una selezione degli indicatori presenti nella banca dati si è cercato di monitorare gli obiettivi e i sottobiettivi previsti dal settimo programma d'azione europeo per l'ambiente. La presentazione avverrà attraverso due momenti, un momento istituzionale nel quale verrà presentato lo stato dell'ambiente alla presenza delle più alte cariche istituzionali ambientali. In questo caso il ministero, il presidente, il ministro, il presidente, commissioni, camera e senato dell'ambiente. Seguirà poi una tavola rotonda che vedrà coinvolte il mondo ambientalista, il mondo tecnico-scientifico e il mondo istituzionale per mettere in evidenza le positività e le criticità che presenta l'annuario stesso. Vi aspetto numerosi. Arrivederci al 6 dicembre prossimo venturo. Grazie a tutti.